ciao fatina qual è il tuo desiderio oggi la pizza margherita fatina ti piace mangiare buon cibo va bene farò per te e per voi la pizza margherita eccomi qui pronta per preparare la pizza margherita con voi gli ingredienti la farina un po di acqua la salsa di pomodoro un po di olio un po di sale e molto importante il lievito la mozzarella e il basilico molto bene prendo la farina e la verso qui facendo un bel vulcano adesso verso un po di acqua e adesso metto un po di lievito e lo sciolgo nell'acqua adesso metto un po di olio adesso metto un po di sale preparo la pasta della pizza con le dita delle mani poi con le mani ecco qui la mia pasta per la pizza adesso però deve riposare per cinque ore la pizza è lievitata la pizza è lievitata la pizza è lievitata la pizza margherita è pronta che buona da nord a sud da ovest a dest dall'italia gira il mondo in un piatto grande tondo senza menù prova anche tu ecco la pizza margherita fatta con le mani e con le dita nel forno io la metto e poi aspetto e quando è cotta la mangio tutta lievito e farina acqua e sale l'olio e poi che cosa devo fare con le mani devo preparare la pasta della pizza e farla lievitare ecco la pizza margherita fatta con le mani e con le dita nel forno io la metto e poi aspetto e quando è cotta la mangio tutta cantiamo in coro rosso il pomodoro bianca e bella è la mozzarella sopra la pizza si scioglierà ecco la pizza margherita fatta con le mani e con le dita nel forno io la metto e poi aspetto e quando è cotta la mangio tutta guarda fatina madison da new york ha imparato tutti gli ingredienti della pizza margherita in italiano ciao mi chiamo madison io faccio la pizza margherita con farina acqua io vitto sale omodoro olio e basso ricco qui è buona ce l'ho fatta if you like my videos you can subscribe to my channel ciao grazie